... Che te ne pare? Te la sogni una cosa del genere tu, eh? Te la sogni una cosa del genere. E invece mi costringono a fare da balia a te. Solo perché porti quella scalcinata spada che esorcizza il male. Roba da non credere. Che c'è? Non ti sarai mica offeso. E allora perché non vediamo chi è il più forte? Ma dove? Oh, forse lo so. Che ne dici di... Lassù? Scusa, scusa. Da solo non ci puoi arrivare su quel... Colosso sacro. Ci vediamo, bamboccio! Ha, ha, ha! Grazie a tutti